E' incredibile ciò che Dilaila è riuscita a fare prendendo il trono. Date le sue origini. La vita mi ha insegnato a non impartire simili condanne. Come ti ho detto tanto tempo fa la conoscevo. La sua anima era ferita a morte, ma astuta e in cerca di un modo per riprendersi. Forse più di ogni altra cosa, Dilaila aveva un grande talento nell'immaginare un mondo migliore. Se solo lo avesse concentrato in qualcosa di meno distorto. Troppo tardi per i rimpianti. Tutti portano con sé dei rimpianti. Il più grande per me è di non avere più tempo a disposizione. Abbi cura di te. Addio, Anton. Anche così è bello essere di nuovo a Dunwall. Dove ho incontrato Jasmine. Dove è nata Emily. Dove è nata Emily. E tu l'hai gettato nell'ublio. non sarei tornata qui e ho infranto tutto megan prendo la barca vado alla torre di dunwall da solo d'accordo come volete uccidere di l'aila se la lascerete in vita prima o poi tornerà per voi farò tutto il necessario per eliminarla e riprendermi emily promettetemi che non esiterete di l'aila è pericolosa di questo non ti devo preoccupare nessuno saprà mai in che modo emily è stata salvata da una non vita di schiavità tu nelle mani di di l'aila nessuno tranne l'esterno che tutto vede che concepisce i suoi pensieri oscuri e parla pochi di ogni generazione trovo contro i morali sono sempre in due modi impossibili è presto o tardi in modi di non possibili pericolosa e